benvenuti in categoria per la tedesco è da 73 milioni tra l'ora è una cucina del pregio che adesso è un marco deve andare a dopo 21 anni dalla Georgia 25 e 75 assegniamo un peso di 78 grammi è stato un grande punto ai campionati del progetto accudiamo un applauso per tutti e salva quattro tante applausi 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 km applausi Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.